Anche l'ex biancoscudato Cristian Caccetta nell'Akragas che sarà presentato ufficialmente giovedì 25 in un lido del lungomare di Porto Empedocle in vista dell'esordio in Coppa Italia di eccellenza contro la Profavara domenica 28 allo stadio Esseneto di Agrigento. Per Caccetta che è di casa a Caltanissetta avendo sposato una nissena si tratta di un ritorno nel campionato di eccellenza. Caccetta sarà uno dei punti di forza della nuova Akragas che punta al ritorno in Serie D. In precedenza il giocatore palermitano ha indossato le maglie di Licata, Lucchese, Paganese, San Benedettese, Catania, Cosenza, Trapani e Foggia. Indimenticabile il suo gol all'Inter in Coppa Italia nel 2013 a San Siro con il Trapani. Ecco le sue dichiarazioni sulla pagina ufficiale dell'Akragas. Le ambrizioni sono sempre quelle, quelle di poter vincere un campionato qui in eccellenza perché sono venuto tante volte qui e so che questo non è un campionato che compete all'Akragas. Io sto bene, nonostante i miei 36 anni sto abbastanza bene, dai. Di sicuro metto a disposizione di tutto il gruppo e della squadra la mia esperienza e la mia voglia ancora di poter dare tanto al calcio. Torno dopo diversi anni di professionismo e trovo una situazione un po' diversa, un po' cambiata perché comunque già qualche anno fa quando sono partito da questi campionati la situazione era diversa. Però dai, la voglia è sempre quella e l'importante è questo. I miei obiettivi sono uguali a quelli della società. La società vuole ritornare in Serie D già da quest'anno e per me vale la stessa cosa. Il messaggio è sempre quello. Ce la metteremo tutta già dalla prima partita fino alla fine. Cercheremo di raggiungere l'obiettivo e venite in tanti allo stadio che ci divertiremo.